La grande crisi Ciao, il messaggio che voglio condividere con voi oggi ha come titolo La grande crisi. Perché ho scelto questo titolo? Principalmente perché credo che nessuna parola più di crisi possa esprimere al meglio il tempo, anzi i tempi in cui stiamo vivendo. Dunque, parlando di crisi, la prima cosa che penso verrà in mente a tutti voi è la crisi finanziaria. La crisi finanziaria che alcuni anni fa ha colpito ormai tutto quanto il mondo. Partita dall'America, raggiunto l'Europa, questa crisi si è trasformata da crisi finanziaria, è diventata una crisi economica. Da una crisi economica a una crisi industriale. Ma noi sappiamo che un paese impoverito poi sfocia anche in una crisi sociale. E quindi vediamo come questa crisi da finanziaria si sia trasformata. Una crisi, appunto, non solo bancaria, finanziaria, ma una crisi economica, economia reale, dall'economia reale a una crisi sociale. Parlando sempre di crisi, a questo punto come non citare la crisi del nostro pianeta, il nostro riscaldamento globale, il nostro global warming, così come viene chiamato dagli americani. E quindi crisi ambientale. Ma la crisi ambientale al suo interno porta altre crisi. Sì, perché la crisi del riscaldamento ambientale porta anche a una crisi idrica, carenza di acqua, soprattutto acqua potabile. Ma la crisi idrica, a sua volta, porta anche a un detoriamento della qualità della vita, soprattutto nei paesi poveri. E quindi è con lì che dalla crisi idrica abbiamo anche la crisi sanitaria. Come vedete, allora, una crisi tira l'altra. Ma oggi vorrei parlarvi di una crisi che, a mio avviso, le comprende tutte. È una crisi che sta alla base. È come se fosse un sistema, un sistema quasi gerarchico. Sta, diciamo, alla base di questo sistema. Ed è la crisi energetica. Beh sì, perché nella nostra vita abbiamo tutti quanti avuto a che fare con l'energia. Pensate che cosa succederebbe in una casa se non ci fosse la corrente elettrica. Io l'ho provato a fare un giorno questo esperimento. Mi sono ritrovato seduto sul letto perché non avevo internet. Non avevo il mio computer. Non potevo neanche accendere la luce. E allora mi sono seduto e ho pensato, adesso cosa posso fare? Ebbene, io stesso ero molto dipendente dalla corrente elettrica. E credo che a vari livelli lo siamo un po' tutti. Ma perché voglio parlare a voi di questa grande crisi e soprattutto della crisi energetica? Beh, innanzitutto, lasciatemi dire questo. Una crisi avviene quando un bene inizia a scarseggiare. Ma allo stesso tempo c'è un aumento della domanda di quel bene. Quindi, da una parte il bene inizia a scarseggiare. Dall'altra parte c'è un aumento della domanda di quel bene. Voi sapete che negli ultimi anni la maggior parte dei paesi produttori di petrolio nel mondo ha raggiunto il cosiddetto picco geologico. Ovvero ogni anno producono meno petrolio dell'anno precedente. Questo significa sostanzialmente che la produzione totale mondiale di petrolio sta lentamente decrescendo ogni anno. Però allo stesso tempo ci sono altri paesi, come Cina, come Brasile, che invece vedono aumentare la loro richiesta di energia. In questo caso di combustibili fossili, di petrolio. Quindi da una parte c'è un aumento della domanda, dall'altra parte c'è una diminuzione dell'offerta. Quando queste due variabili si trovano a convivere, ecco lì che abbiamo una crisi. Perché vi parlo di tutto questo? Beh, sostanzialmente ve ne parlo perché nella Bibbia, nella Bibbia si parla già, pensate, duemila anni fa già si parlava di una grande crisi. Di una crisi che ha colpito il nostro pianeta, una crisi energetica. Voi mi direte, non mi risulta. Ebbene, vi invito a seguirmi nel libro di Matteo, nel Nuovo Testamento, al versetto 25. Al Rola, il regno dei cieli, sarà simile a dieci vergini, le quali, prese la loro lampada, uscirono a incontrare lo sposo. Cinque di loro erano stolte e cinque avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Siccome lo sposo tardava, tutte divennero assonnate e si addormentarono. Ma verso mezzanotte si levò un grido. Ecco, arriva lo sposo, uscite gli incontro. Allora tutte le vergini si svegliarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alla vedute, dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono. Come vedete, qui abbiamo una crisi. Dateci del vostro olio perché le nostre lampade si spengono. La domanda aumenta, ma l'offerta di olio diminuisce. Una crisi, una crisi energetica. Ma nella Bibbia qual è il significato di olio e qual è il significato di lampada? Perché Gesù racconta questa storia nel Nuovo Testamento proprio per rappresentare un significato metaforico, simbolico. Infatti questa è chiamata una parabola. Ma che cosa significa olio e cosa significa lampada? Andando avanti in secondo Samuele, libro del Vecchio Testamento, al capitolo 22 al versetto 29 è scritto In Salmi 119, il versetto 105 è scritto In Proverbi al capitolo 6, il versetto 23 è scritto Il precetto infatti è una lampada, l'insegnamento una luce Quindi che cos'è la lampada? La lampada è la parola di Dio Ma che cos'è l'olio? Leggiamo insieme nel Vecchio Testamento quindi nel libro dell'Esodo al capitolo 27, il versetto 20 Ordinerai ai figlioli di Israele che ti portino dell'olio Olio d'oliva puro, vergine per il candelabro per tenere le lampade continuamente accese Quindi l'olio vediamo che è un qualcosa che serve per tenere accese le lampade Primo Samuele, capitolo 16, versetto 13 Allora Samuele prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli Da quel giorno lo Spirito del Signore investì Davide Samuele investe il nuovo re di Israele, Davide con dell'olio Che cos'è l'olio? L'olio è lo Spirito di Dio Ma qual è lo scopo di questo Spirito di Dio? Qual è lo scopo di questo Spirito che serve per alimentare le lampade? In Giovanni 14, Nuovo Testamento al versetto 26 è scritto Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto Giovanni 4, versetti 23 e 24 è scritto Ma allora viene, anzi, è già venuta che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità poiché tali sono gli adoratori che il Padre richiede Il Dio è verità e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità Romani 8, 26, concludo Allo stesso modo ancora lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché non sappiamo pregare come si conviene ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili Che cos'è lo Spirito? Qual è lo scopo dello Spirito? Abbiamo detto l'olio, lo Spirito Il suo scopo? Molto semplice Fare in modo che la nostra comunione con Dio possa esistere perché lo Spirito ci ricorderà le parole di Gesù lo Spirito pregherà insieme a noi lo Spirito sarà quel mezzo attraverso il quale noi possiamo avere questa relazione con Dio Un'autrice cristiana Ellen White ha scritto in un suo libro I segni dei tempi il 31 ottobre del 1900 scrive Per tutti coloro che desiderano imitarlo il suo esempio esempio di Cristo ci è stato dato lasciato per iscritto La preghiera ha santificato il suo ministero La forza e il vigore per assolvere i compiti di ogni giorno derivano dall'adorare Dio nella bellezza della santità La lampada doveva essere riempita con olio santo affinché la luce potesse risplendere attraverso l'oscurità morale Oscurità morale E' interessante che questa autrice abbia utilizzato questa parola perché credo che descriva in maniera propria il tempo in cui viviamo un tempo di oscurità morale L'olio la lampada lo Spirito di Dio Sempre la stessa autrice in un altro libro dal titolo La speranza dell'uomo a pagina 456 scrive Il mondo è tormentato i segni dei tempi sono visibili Eventi tremendi si annunciano lo Spirito di Dio si sta ritirando dalla Terra Qual è il simbolo qual è il segno di questa crisi spirituale che si è abbattuta sul nostro pianeta Parlando di fonti energetiche sono tre sostanzialmente le prime i primi segni che si mostrano quando c'è una crisi energetica Segno numero uno un aumento della criminalità Beh sì perché se io non ho i soldi e c'è una crisi economica in atto nel mio paese sarò molto più incline a frodare la legge probabilmente sarò molto più incline a non pagare il biglietto dell'autobus proprio perché c'è una crisi quindi aumento della criminalità disordini sociali altra conseguenza un aumento e una difficoltà maggiore dei trasporti ovvero muoversi costerà sempre di più beh sì perché il combustibile fossile è la prima fonte di energia che ci consente di spostarci quindi quando c'è una crisi la prima cosa che avviene aumento della criminalità secondariamente una diminuzione dei trasporti dei movimenti terzo punto c'è una maggiore ricerca di fonti di energie alternative ma come si applica questo dal punto di vista spirituale punto numero uno un aumento della criminalità come si intende questo dal punto di vista spirituale molto semplice un aumento di liti divisioni contese odio fra le persone onestamente da quando voi avete memoria negli ultimi dieci anni potete dire onestamente intorno a voi nella vostra vita di aver visto un aumento di divisioni di discordie di contese punto numero due abbiamo detto il movimento costa sempre di più ora il movimento non è da intendere solamente il movimento dell'automobile o del treno il movimento dal punto di vista spirituale è il movimento che Dio ci chiede a fare nell'evangelizzare il mondo diventa sempre più difficile sempre più costoso per noi uscire dal nostro io dalla nostra vita per andare verso l'altro ci costa sempre più fatica sempre più energia punto numero tre anche noi nella nostra esperienza con Dio ricerchiamo fonti di energie alternative sapete spesso nelle chiese si fanno molti programmi si fanno delle recite dei canti si visualizzano dei powerpoint dei video io non voglio criticare questi mezzi perché sono mezzi buoni di per sé eppure se questi mezzi diventano un sostituto della fonte principale dello spirito santo allora questi mezzi diventano delle fonti di energia alternative sì alternative a cosa? alternative a quella fonte principale che è venuta a mancare con lo spirito di Dio che abbiamo letto si sta ritirando dal nostro pianeta Ellen White scrive La preghiera è il respiro dell'anima in un suo libro scritto dal titolo Gospel Worker in pagina 255 scrive La preghiera è il segreto del potere spirituale nessun altro mezzo della grazia può esserle sostituito e preservare la salute dell'anima la preghiera porta il cuore immediatamente in contatto con la fonte perenne di vita rinforza i tendini e i muscoli dell'esperienza religiosa rifiutate l'esercizio della preghiera o impegnatevi in una preghiera spasmodica ora sì e ora no quando sembra più conveniente e perderete la vostra presa su Dio le facoltà spirituali perdono vitalità l'esperienza religiosa manca di salute e di vigore sempre Ellen White in un libro dal titolo in heavenly places scrive al capitolo 341 il popolo di Dio che osserve i suoi comandamenti dovrà prepararsi per questo tempo di crisi ricercando una più profonda esperienza nelle cose di Dio e una conoscenza pratica della giustizia di Cristo non solo ai non credenti ma a tutti i membri di chiesa sono state rivolte le parole cercate l'eterno mentre lo si può trovare invocatelo mentre è vicino per questo tempo di crisi Ellen White suggerisce e scrive c'è solo un mezzo la preghiera c'è un autore un autore che ha scritto un libro molto famoso dal titolo L'arte della guerra sapete in questo libro è stato scritto intorno al quarto sesto secolo avanti Cristo in Cina l'autore si chiama Sun Tzu questo libro L'arte della guerra scrive quanto segue il guerriero vittorioso vince prima e poi va a dare battaglia il guerriero sconfitto va a dare battaglia e poi cerca la vittoria ripeto quindi il guerriero vittorioso vince prima e poi va a dare battaglia perché scrivo questo perché io credo che il momento principale cruciale della vita di Cristo del suo ministerio è appunto il momento sulla monte Golgota il momento della croce eppure se io vi dovessi chiedere quando Gesù ha vinto la sua battaglia contro il male non è stato sulla croce sulla croce è stato l'epilogo finale Cristo ha vinto la sua battaglia quando era sul monte degli olivi nel Gezzemani il giorno prima quando ha pregato il padre quando la sua preghiera era così intensa da farlo sanguinare in quel momento Gesù ha vinto la sua battaglia contro il male e poi è andato a combattere sulla croce Gesù ha vinto prima sul monte degli olivi e poi è andato a combattere sul Golgota ricordate il guerriero vittorioso vince prima e poi va a dare battaglia perché vi dico questo perché quelle vergini quelle ragazze di cui abbiamo letto prima che aspettavano lo sposo con le loro lampade e poi si sono addormentate rappresentano ognuno di noi siamo noi che abbiamo la nostra lampada abbiamo la Bibbia e abbiamo anche il nostro olio ovvero quel rapporto quotidiano con Dio con lo Spirito Santo che ci consente come l'olio nella lampada di avere luce e di poter vedere di poter capire le verità della Bibbia quelle ragazze sono io sono te sono tutti noi quelle ragazze che si sono addormentate perché ormai da duemila anni Gesù deve tornare ma ancora non torna e allora si sono addormentate con la loro Bibbia con la loro personale esperienza con Dio con il loro rapporto con il loro spirito ma ecco che succede che alcune di loro cinque fra loro è scritto si svegliano all'improvviso e si accorgono di non avere l'olio cosa vuol dire questo si accorgono che la loro esperienza con Dio quotidiana quel loro rapporto quell'olio che doveva essere versato ogni giorno nella loro lampada in realtà non è stato versato ogni giorno perché la loro esperienza è stata alternata a volte sì a volte no e allora succede che queste ragazze si ritrovano senza olio senza questa esperienza quotidiana con Dio e allora la loro lampada è buia e quella notte diventa tenebra non riescono più a distinguere lo sposo e allora vi domando è possibile che quella ragazza sia io? è possibile che io da cristiano possa non riconoscere i tempi in cui stiamo vivendo e sì perché senza olio nella lampada la lampada è buia e di notte non si riesce a distinguere lo sposo arriva e quelle ragazze lo guardano e dicono è lui colui che dobbiamo aspettare oppure no perché è buio non riescono a distinguere il volto di Gesù che torna di questo sposo che è pronto ad accoglierle nella loro casa in Ellen White sempre Ellen White questa autrice scrive le più grandi vittorie per la chiesa o l'individuo non sono quelle guadagnate grazie al talento o all'istruzione alla ricchezza o al favore degli uomini sono quelle vittorie che sono guadagnate nella sala delle udienze di Dio quando una fede ardente è provata si abbandona sul braccio potente del potere poiché scrive Giovanni nel capitolo 15 versetto 5 colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto perché senza di me dice Gesù non potete fare nulla per concludere il mio messaggio di oggi è il seguente stiamo vivendo tempi di crisi è innegabile c'è una crisi nel mondo molti di noi possono essere tentati nel pensare beh mi preparerò quando ci saranno questi tempi di grande crisi allora sì saprò dare la mia vita a Cristo allora risponderò al messaggio dello spirito state attenti perché anche quelle ragazze quelle cinque ragazze che si sono addormentate senza olio nelle lampade hanno pensato la stessa cosa hanno pensato beh intanto dormo quando verrà lo sposo allora sarò pronto ma la differenza è che quelle ragazze non avevano riempito la lampada ogni giorno con l'olio oggi oggi è il tempo per riempire la nostra lampada con l'olio oggi è il tempo per vivere ogni giorno in presenza dello spirito di Dio oggi è il tempo per pregare ogni giorno e chiedere che ci venga dato questo olio santo per riempire la nostra lampada affinché questa Bibbia questo libro a volte misterioso questa lampada possa essere riempita e possa illuminare la nostra vita e la vita delle persone intorno a noi vedete la parola crisi dal greco ha un significato molto particolare crisis dal greco ha il significato di separare di decidere crisi vuol dire scelta ebbene questi sono indubbiamente tempi di crisi ma non solo perché l'euro va giù va su soprattutto perché sono tempi in cui ognuno di noi è chiamato a fare delle scelte scelte importanti scelte che determineranno la vita che noi faremo da oggi verso l'eternità per questo la mia preghiera il mio invito a tutti noi è quello di fare attenzione al tempo presente al tempo di crisi fare attenzione a ciò che succede intorno a noi e a chiedere ogni giorno in preghiera allo spirito di Dio di riempire la nostra vita perché senza di essa le nostre lampade sono spente e di notte non è possibile distinguere una persona dall'altra non è possibile distinguere il vero dal falso la mia preghiera per me e per te e per ognuno di noi e che tu possa riempire in preghiera questa tua lampada possa riempire te stesso dello spirito di Dio così come fece Gesù pregando ogni giorno ogni mattina trascorrendo ore in preghiera con il Padre questa è la mia preghiera e il mio augurio Amen grazie a tutti Grazie a tutti